ciao ragazzi e con grandissimo piacere e anche con una punta di orgoglio che vi informo che sono diventato partner di maglie calcio basso costo se volete sicuramente se avete visto i video del mio canale più di una volta avete visto unboxing e la maggior parte degli unboxing sono dovuti a maglie comprate appunto da maglie calcio basso costo ad esempio questa dei mondiali di Kedira sono fatte benissimo sono perfette se volete vedere sono perfette in qualsiasi in qualsiasi dettaglio hanno anche delle maglie tipo questa della Juve che ho preso di De Scillo con addirittura la patch quella per Astori quindi ciao Davide queste sono le ultime due che mi sono arrivate ma in realtà ne ho già ordinate tantissime trovate anche delle maglie speciali e trovate un sacco di roba anche tutte magliette polo t-shirt delle scuole di calcio trovate di tutto quindi io vi lascio qui sotto il link del sito maglie calcio a basso costo con il codice sconto sotto troverete un codice sconto basterà che inserire basta che inserirete fuori rosa tv e tutto andrà a posto nel senso avrete un coperto il 10 per cento di sconto su ogni acquisto e quindi andate vi invito subito andate qui sotto cliccate e guardate la collezione di maglie nazionali la serie A internazionali di club ma anche internazionali di nazionali come ad esempio la Germania ma ci sono proprio di tutti gli stati ci sono sudamericane nordamericane asiatiche africane insomma c'è oceanica di tutto di tutto sia per i club che per i nazionali e anche per andare in giro quindi tutte ufficiali delle società Juventus Milan Inter magliette di Juventus Milan Inter insomma c'è di tutto controllate andate a controllare codice sconto fuori rosa tv per il 10 per cento